Bentornati, bentornati sul canale. È il giorno, è il giorno di Thomas Palacios. È il giorno di Thomas Palacios perché dopo l'incontro di ieri, dopo l'arrivo a Milano all'intermediario, sono attesi i dirigenti dell'indipendiente Riva d'Abbia a Milano per definire il passaggio del classe 2003 all'Inter. Ma prima di parlare di questo affare, volevo farvi una promessa e spero di mantenere. Non parlerò quest'anno delle idee, dei pensieri di Antonio Cassano per quanto riguarda l'Inter. Perché ho ascoltato francamente tre minuti della nuova trasmissione con Adani e Ventola, senza più Bobbone e Vieri. E devo dire che tre minuti di troppo. Purtroppo ci si è incancreniti in quelle posizioni che temevo. Perché vi dico la verità, all'inizio e per diverso tempo era comunque divertente ascoltare pareri scevri dai soliti parrucconi, anche netti, anche magari estremi. Però ti davano quel senso di libertà, di schiettezza, di correttezza almeno, di coerenza, quindi di apertura. Poi d'accordo o meno. Col passare del tempo le posizioni sono sempre più estremizzate e diventato quasi un social parlante. polarizzato tutto. O bellissimo o schifo. Mi fa piacere che Adani e Ventola invece continuino in qualche modo a provare ad approfondire. Però ragazzi non mi chiedete più in privato di Cassano, di Vessicchio, di Tele Lombardia, di tutta sta gente qua che mangia sul calcio. Cassano lo tolgo da questo discorso perché francamente non ha bisogno, semplicemente sono pareri ormai, sono crociate quelli di Cassano e quindi non ne vale la pena. È una questione di d'accordo o non d'accordo. Peraltro mi resta super simpatico e comunque ci vedo sempre genuinità nelle sue esposizioni. Semplicemente ormai sono talmente fisse e logore per certi versi che, vabbè, abbiamo capito a me. Quindi non mi chiedete più neanche sui altri social, pareri su... perché non ha senso francamente. Ma non la mia, ripeto, non è una critica. Magari è una critica a me stesso perché non... mi sono stufato di sentire quelle robe lì. Magari chi le ascolta per la prima volta le troppe. Secondo me è un vicolo cieco. Ecco, è un vicolo cieco. Mi ero permesso di segnalare questa cosa a suo tempo in maniera del tutto educata, ma ho avuto delle risposte sgangherate e fuori controllo al che ho detto passo la mano tanto, non ho necessità. E sugli altri invece sono... ah, adesso c'è altra gente che mi chiedete che lì, sì, ci mangiano in maniera scientifica, chirurgica, soprattutto sull'Inter. È molto facile mangiare con l'Inter nell'epoca social, nell'epoca YouTube, nell'epoca quant'altro, e quindi gradirei non avere più richieste di questo tipo su questi personaggi, perché non sono persone, questi sono veri e propri personaggi creati e lo si vede. Io lo so, per certo, perché lo so, faccio parte di questo mondo e so che ognuno di loro deve recitare una parte, quindi a me non possono fregare, chiaramente. Spero che non freghino più voi, cioè non vi sentite, non vi alterate, non vi sentite delusi se qualcuno che sia anche professa interista fa l'Inter triste. Sono tutte parti che vengono recitate, no? Quindi sappiate che è tutto finto. Solo al fine del business, del soldo, di mangiarci sopra. E allora non ne vale la pena, quindi non mi chiedete più niente di questi personaggi, non ne voglio sapere. Mi spiace per quei pochi colleghi seri che ancora frequentano quei saloni, bontà loro, avranno il pelo sullo stomaco, io no. E quindi non mi interessa. Evito anche le vedove di Bella Nova, perché raga, con tutto il bene, con tutto il bene, ma non si può, non si può fare una vita così. Non si può distruggere un ragazzo per un anno perché sbaglia due passaggi a San Siro quando ha appena staccato la bocca dalla tetta della mamma a bere il latte e poi dopo due anni, eh però se ci tenevamo Bella Nova, che? Che cosa? A parte che non avevi quei 7 milioni per riscattarli in quel momento e dovevi dedicarti ad altro. E nel frattempo hai stravinto uno scudetto, cioè vi ricordo che la prima stagione senza Bella Nova hai distrutto la concorrenza, hai vinto lo scudetto a aprile. Ma è all'Inter manca quello. Io sono il primo che va lì a trovare il puntiglio. Però non è che le altre sono perfette e non mi interessa delle altre. Sì, perché è una competizione con le altre, non è con te stesso. Tu migliori, tendi a migliorare. E a te mancano dei dettagli. Però all'Inter manca quello. Tutte hanno quello che salta l'uomo e io sono il primo a dire manca quel tipo lì. L'Inter no. Sì, però tante cose che all'Inter le altre non hanno, altrimenti non avresti cambiato aprile. Quindi quando poi vai a fare la pesa, è così. Capite? Oh, quindi stiamo cari. Quindi pure le vedo di Bella Nova. Sì, è cresciuto. E certo. Buon per lui, ma non mi sembra si è diventato Cafu. Non mi sembra si è diventato Mecon. Io lo auguro. Adesso distruggersi per Bella Nova. Torniamo sempre lì. e Coutinho e Kovacic e Zaniolo. Ancora sento l'Inter. Zaniolo. E dai. Ecco, torniamo a Palasios. Oggi è il giorno di Palasios che sarà, in teoria dovrebbe essere, il prossimo acquisto del mercato dell'Inter, che tanti adesso definiscono deludente, fallimentare, schifoso, quello che volete. Secondo me nella percezione ci sono due fattori che vanno a incidere. L'arrivo di Gelinski e Taremi a zero, perché li avessero pagati 40 milioni l'uno, non staremo qui a dire la stessa cosa. e soprattutto i tempi. Anticipando molto, sembra che uno non abbia fatto niente. Ma io me li ricordo questi mercati in anticipo delle altre. E alle altre si diceva, eh, vedi, fanno tutto, partono già pronti, invece gli altri affannarsi negli ultimi giorni. Adesso lo fa l'Inter in maniera preventiva, tenendo i big. Attenzione, come ho sempre detto, la grande novità degli ultimi anni è che l'Inter ha tenuto tutti. Se tieni tutti, non è che ti serve tanto. Ti mancavano alcune cosine, alcune le potevi fare e non le hai fatte, secondo me. Alcune non le potevi fare, tipo il centrale. Il centrale adesso tu non è che vai a prendere un costo zero. Non c'è. Ci sono soldi da spendere. Visto che ti sei tenuto in qualche modo, gioco forza, acerbi e defray, rimandato a quest'altrano. L'altrano di destra, sei stato in bilico con Denfriis. Anzi, sto chiedendo per le tempistiche del rinnovo di Denzel Denfriis. D'accordo, d'accordo, arriva la firma, sono due mesi e ancora non firma. Quindi sto chiedendo e vi farò sapere sicuramente. Però anche lì hai Buchanan, che può giocare a destra e a sinistra. Se hai fatto male, però ce l'hai. Lo paghi, tornerà. Non è che torna a luglio, tornerà tra novembre, dicembre. Quindi comunque lo devi calcolare in qualche modo. Non è perché se fa male quello devi comprare un altro. E' chiaro che lì devi intervenire. Non sarà quest'altrano. Non si è potuto fare perché se intervieni, intervieni forte. Manca l'attacco. Lì abbiamo parlato tantissimo. Oggi però è il giorno, sarà il giorno di Palacios. Offerta di 6,5 milioni all'independente Rivadavia. Altri dicevano che il Tagere sarebbe diventato l'unico interlocutore. No, non sto criticando perché comunque è una situazione intricata. Qualcuno ha sbagliato. Amen. Vi sto facendo una comunicazione. È l'independente Rivadavia. Quindi vediamo oggi. Se si chiude anche la querelle braccetto. E poi io, ripeto, anche ieri si parlava. Insomma, no, l'Inter è in attacca completa. Non farà accessioni, non farà acquisti, sì, finché non farà accessioni. Dando via Satriano, che pare vicino al mio Lanz, e Correa, evidentemente, magari, chissà, verrà accontentato in Zaghi e verremo accontentati anche noi. Salute.